fratelli bianconeri e non buonasera a tutti voi dunque scusatemi ma ho notato che c'era stato un problema nel video precedente per cui abbiate pazienza l'ho eliminato e adesso l'ho rifatto per cui spero di spero che le cose vadano meglio ho notato che non era bene in sincro la voce con il labiale deve essere successo qualcosa che non so è la prima volta che mi è capitato per cui adesso provo a rifarlo per parlare come vi dicevo nel precedente del derby milan inter allora milan inter che è stata un po una sorpresa devo dire una sorpresa perché l'inter va a vincere 3 a 2 in quel di milano sponda milan mannaggia avevo le ali pronte anche stasera invece mi sono rimaste sui denti stasera stasera mi sono rimaste sui denti la partita l'ho vista tutta mi è piaciuta molto è stata molto bella sicuramente uno dei derby più combattuti che io possa ricordare per quello che seguo il derby milan inter io credo che il derby di stasera abbia sancito una cosa una cosa importante io penso che la partita di stasera indipendentemente dal fatto che il milan abbia persa però credo che abbia detto che praticamente la stagione è finita o quasi secondo me perché vi dico questo perché quando l'inter perde o il milan perde le altre perdono quando il milan e l'inter vincono le altre perdono quindi c'è qualcosa che non va possiamo dire fin da ora a meno che di rivoluzioni galattiche e con l'inter perlomeno non si sa mai quindi voglio mettere le mani avanti però devo dire che mi pare di poter asserire che juventus napoli inter e milan o milan e inter che dir si voglia saranno le quattro squadre che l'anno scorso che sì l'anno scorso che l'anno prossimo dovremo tifare in champions presumo no cioè tifare dovremo tifare io tifo per juventus napoli e milan io non posso tifare l'inter in champions nel modo più assoluto però detto questo mi pare di poter dire questo a giusta ragione perché se andiamo a vedere i risultati di questo fine settimana signori allora la roma ha perso in quel di spal la fiorentina ha perso in quel di cagliari il torino ha perso in casa 3 a 1 con il bologna l'atalanta ha pareggiato 1 a 1 in casa col chievo verona l'unica che ha mantenuto un po le distanze da tutto è stata la lazio non so quale tipo di credibilità dare alla squadra di inzaghi visto e considerato che tutti gli anni sembra che debba arrivare sembra che debba arrivare sembra che debba arrivare e non ci arriva mai non so quale tipo di credibilità posso dare a questa squadra e da un lato è una cosa anche abbastanza curiosa perché veramente io credo che milan inter e lazio siano tre squadre che si equivalgono nel modo più assoluto secondo me sono tre squadre che potrebbero tranquillamente viaggiare a braccetto dall'inizio alla fine della stagione non c'è una delle tre che è più forte dell'altra sono tre squadre che hanno delle fucine di buoni giocatori sono tre squadre che non hanno campioni nell'eurofila campioni veri intendo e sono tre squadre quindi che potrebbero ritrovarsi a lottare veramente fino in fondo alla champions anche se la roma ha ancora due punti in più della lazio però la roma ha certificato il fatto che alle volte non basta cambiare un allenatore per poter stare al centro del mondo indipendentemente dal fatto che poi un allenatore possa essere un allenatore medio come lo era neri o un allenatore medio scarso medio bravo ecco tanto per citare quindi diciamo che ci sarà ancora un pizzico di lotta ma secondo me neanche più di tanto vedremo se avrò ragione andando avanti la partita di stasera la partita del derby inter milan come dicevo prima mi è piaciuta molto mi è piaciuta perché è stata sicuramente combattuta ma purtroppo come vado dicendo da tempo quando tu regali appunto scusate il giro delle parole un tempo è normale che poi questo possa succedere milan nei primi 45 minuti assolutamente non pervenuto non ha giocato mi sento di dire che l'inter abbia meritato questo risultato penso di poter dire che l'inter non abbia rubato nulla nel primo tempo ha fatto un pressing asfiesciante i giocatori del milan che non praticamente non gli ha permesso di giocare in nessun modo praticamente il milan non ha giocato nel primo tempo non c'era in campo c'era solo l'inter nel secondo tempo la squadra di gattuso si è fatta più rabbiosa più ringhiosa per se vogliamo dirla ha costretto in alcuni momenti l'inter alle corde però io penso che nel primo tempo se il risultato non fosse stato di 1 ma anche di 2 a 0 io penso che l'inter non avrebbe rubato nulla per cui onestamente non mi sento di dire che il pareggio sarebbe stato giusto io credo che l'inter abbia vinto e abbia vinto meritatamente secondo me è stato un derby all'insegna delle cose giuste non ci sono state cose eclatanti a parte il fatto della rissa tra biglia e che sì che non ho capito poi per quale motivo magari qualcuno domani ce lo dirà però voglio dire nel complesso comunque è stata una partita che ha fatto vedere nel primo tempo da parte dell'inter un buon calcio nel secondo tempo l'inter si è anche perché aveva speso tantissimo nel primo si è un pochino rilassata è venuta fuori il milan ma il milan appunto si è è venuto fuori nel momento in cui si è rilassata l'inter prima ha fatto veramente una grande fatica io non so dove potranno arrivare veramente queste due squadre quest'anno a parte il fatto che credo che la champions come dico non gliela possa togliere a nessuna delle due perché comunque il resto di dietro sono peggio di loro due quindi non credo che ci siano dei problemi enormi per il passaggio in champions per l'anno prossimo un piccolo appunto lo voglio fare a due giocatori allora uno è Piontek stasera assolutamente non pervenuto assolutamente inesistente controllato benissimo dalla squadra di Spalletti e voglio dire una cosa su Piontek che è questa io credo per quello che ho potuto vedere che Piontek sia sicuramente un buon giocatore per quello che riguarda la finalizzazione del gioco ma credo invece che non sia particolarmente bravo quando deve collaborare al gioco di squadra cioè voglio dire è un giocatore da area di rigore per farvi capire cosa voglio dire intendo i tipi alla avete presente Treseguet? ecco Treseguet giocava nella Juventus negli ultimi 20 metri 25 metri dove era letale perché quando gli arrivava la palla buona non c'era religione lui faceva gol Piontek mi ricorda in un certo senso un po' la metodologia di gioco di Treseguet non gli puoi chiedere di fare gioco di squadra perché secondo me deve ancora migliorare moltissimo da questo punto di vista opinione personale l'altra cosa invece la voglio dire su Lautaro Martinez che è un ragazzo a mio parere che sta cominciando a migliorare aveva bisogno di giocare un po' di più e devo dire che l'ho visto muoversi molto bene e a differenza di Piontek forse anzi senza forse è meno finalizzatore però sicuramente è più uomo da squadra cioè partecipa molto più al gioco alla manovra corale è andato a prendere alcuni palloni in difesa si muove tantissimo quindi anche più difficile da seguire quindi direi che sono due soggetti lui e Piontek sicuramente da tenere sotto osservazione in questi prossimi anni sicuramente dovranno migliorare tantissimo per arrivare ad alti livelli perché un conto è giocare a Genova e un conto è andare a giocare comunque in una squadra che ti può permettere o ti dovrebbe permettere di giocare ad altissimi livelli lo stesso discorso vale per Lautaro Martinez perché l'Inter e il Milan di adesso sono due squadre medio-mediocri arriveranno in Champions come dico tutte e due perché quelle di dietro fanno peggio quindi ci possiamo immaginare quello per il resto direi poco altro da aggiungere ripeto mi sono divertito è stato un bel derby credo che quest'anno non so se sia stato battuto tra l'altro il record di gol perché non so se sono stati fatti più di 40 gol oggi tra venerdì e oggi quindi questo è molto bello è molto bello come dico sempre io è sempre più bello vedere una partita che finisce 5-5 piuttosto che una che finisca 0-0 anche se ci sono stati azioni da gol ma il pubblico con i gol si diverte e credo che questa fine settimana il pubblico si sia divertito a vedere le partite per cui andiamo avanti così ragazzi ci lasciamo io cosa vi posso dire devo dire ripeto mi sono divertito è stata una bella partita vorrei vedere di più partite di questo tipo perché veramente è un bello spot per gli occhi devo dire bravo all'Inter che ha vinto un derby comunque importante che la rilancia completamente se stamattina avessi dovuto giocare una schedina e qualcuno mi avesse detto Damon a Zè che è il risultato io di sicuro avrei sbagliato io non avrei mai giocato il 2 dell'Inter mai non so dopo le prestazioni dell'Inter dell'ultimo mese quanti tifosi dell'Inter avrebbero buttato su un euro per la vittoria della loro squadra io penso in pochi io personalmente non l'avrei mai buttato ecco perché vi dico sempre che non voglio fare i pronostici perché io non ne azzecco mezzo io per i pronostici sono proprio negato ma non negato di più e quindi preferisco non farli e quindi ripeto annoveriamo questa vittoria dell'Inter che secondo me non se l'aspettavano nemmeno i suoi tifosi perché dopo aver visto contro l'Eintracht la cosa però che vi lascio con una domanda che è questa ma l'Inter allora riesce se vuole un pochino niente di particolare rimane una squadra medio-mediocre però un pochino a giocare io credo che se l'Inter giocasse come ha giocato stasera nel derby non lo so se sarebbe uscita dall'Europa League secondo me era ancora dentro secondo me solo un'opinione ho dei dubbi solo dubbi ciao